ok quindi dicevamo allora possiamo andare, possiamo andare, possiamo andare, possiamo andare per cercare il raggio carica, andiamo di qua allora io volevo dire questo nintendo si sono un po' diciamo vantati del fatto che sto capitolo qua dovrebbe essere molto simile ai metroidi in 2d che conosciamo dove praticamente si possono anche rompere le sequenze previste dagli sviluppatori ovviamente ora è troppo presto per parlarne io queste cose ancora non le ho viste però appena arriveranno ve lo dirò subito se c'è qualcosa che non va ci sono cose che io non dovrei possedere in quel momento io io qua è tutto bisogno di qua invece dove si va no niente sforzo della bisogna andare in qualche modo qua non possiamo andare eeeh la minchia vabbè allora sono scemo non fa niente si ricomincia assolutamente neanche da troppo lontano qua vabbè vado troppo spaventato per questo ho paura di sti cosi cioè vorrei poterli contrattaccare efficacemente ma ovviamente la tensione mi fa sbagliare i tempi mi sembra pure giusto al tondo era questo l'effetto che volevano se era se puntavano a sta cosa madonna oh oh ma dai madonna direttamente vabbè sono parecchio stili comunque questi cosi però facciamo come abbiamo fatto fino ad adesso aspettiamo che esci fuori a questo punto eeeh è una cosa così scema io mi sto incartando qua solo perché ho paura di sbagliare vediamo se vediamo se riesco a tirare beh che ci fanno lì quindi non necessari ahhh non necessariamente viene da qua è randomico una cosa mi mi darà un fastidio probabilmente in futuro qui c'è però ovviamente per quanto posso andarci non mi fa andare qui c'è un potenziamento si vede via via certo ci si vorrebbe un bel pad con la funzione turbo per farli fuori sti robi ma sicuramente più in là ci sarà qualche sistema che ancora non conosco che mi permetterà di fare premio oddio che è lì eh mi sembrava mi sembrava vabbè andiamo avanti qua c'è una stanza di salvataggio ci sono parecchie stanze di salvataggio e parecchi modi per salvare evidentemente loro avevano capito che sti emi potevano dare gran fastidio nei vecchi metroid non era così nei vecchi metodi c'eravano solo le stanze di salvataggio e pace quindi ti arrangiavi allora lì c'è una cosa una una c'è l'energia che adesso non posso prendere sempre per la solita questione che non ho la morphbook lì c'è un cacchio non ci può andare scendiamo giù sicuramente per andare là sopra ci vorrà la tutta gravità che adesso no perchè infatti col salvataggio non mi ci fa andare ok vedi qua un attimo qua non ci può andare mi mancava la morphbook e neanche qua sopra ci non si deve fare però abbiamo svuotato l'acqua tecnicamente quindi di qua e infatti non sembrava strano non serve a tutta gravità questo punto qua vediamo cosa ci dice questo è sicuramente Adam ah no le state di Adam sono diverse questa qua sembra un santuario cioso più che cosa di Adam che cos'è? una mappa eh figo figo vedi c'è mi fa salvare un sacco di volte sta cosa a lungo andare non è proprio il massimo è scemo io che non ho sparato vabbè è una roba eh si voleva fare così e qua ci porta praticamente indietro dove c'era questo punto qua ci va ben facile facile quindi se non possiamo andare su se non possiamo andare giù ci possiamo muovere solo di qua qua la serve la Morph Ball quindi sti cavoli di qua invece eh si torna nella zona dei cacchi di di emmy non è che sta la necchia sta Aia! Oh madonna! Oh! Oh! Oh, what's going on? I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Uh-uh. Oh! Oh! madonna era meglio che mi buttavo direttamente ahhh che fastidio che fastidio la finestra per fare il controattacco agli emmi è veramente risicata ma veramente però adesso so cosa dobbiamo fare quindi la faremo molto più spesa a sta parte e e è eccoci di nuovo qua vabbè a questo punto non facciamo di nuova scelmenza di prima andiamo direttamente di questi gasper ecco qua questo è questa è una statuta che dovrebbe restituire energia o missili bene bene qua sopra non ci posso andare ancora di qua e poi non possiamo andare vabbè andiamo di qua teoricamente se ci ha dato sta stato che ci cura potrebbe essere che siamo vicini a un boss ma magari mi sbaglio beh immaginavo è da sempre che è così porte rosse missili ovvio cosa ci dai tu finalmente la miseria non se ne poteva più ok vabbè vabbè quindi questo si può aprire quindi questo si può aprire siamo tornati ah ecco dove siamo siamo dall'altro posto questa dovrebbe essere una sciolta pericolamente perfetto buono buono eh di qua vediamo un attimo un po' se possiamo andare da qua a parte indietro oddio no 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 via 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 il gelo il gelo poi si vedeva che era gelato c'era anche l'effetto di aria frida diciamo allora andiamo di qua allora qua era per prendere il raggio di carica di qua invece c'è questa zona qua che è andato indietro praticamente e teoricamente però adesso possiamo possiamo perfino fare qualche porta che non abbiamo aperto come questa mmm ottimo finalmente il primo salvatore io vediamo un po' se andiamo di qua mamma mh 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 raga lo scrolling di sto gioco è qualcosa di favoloso allora a me il Samus Returns non mi era dispiaciuto però su certe cose peccava tantissimo almeno per i gusti miei poi ovviamente può piacere qua siamo tornati nella zona del primo M quindi non ce ne frega niente non era un brutto gioco torna a ripetere anzi era un buon gioco era un buon Metroid per rincominciare però ovviamente a me mi stava stretto un pochettino volevo provare a vedere se devo barare ma non so però qua si si può entrare e questa è un'altra zona M mi pareva oh mio dio perché la visuale si è zoomata cosa ci vuole far capire il gioco ok adesso mi sfugge poi siamo già stati sì perché cosa ci sta facendo capire il gioco adesso mi sfugge poi siamo già ritornati però adesso sono un cretino io sono un cretino ma è sempre del resto c'è qualcosa che ci voleva far capire il gioco che io non ho capito comunque veramente stavo dicendo sto gioco c'è uno scrolling che è fenomenale magari mi sbaglierò può essere ma secondo me è persino più fluido di quando di Samus Return non che ci voglia parecchio perché comunque era su una console un po' castrata ora possiamo andare di qua ottimo ottimo andiamoci a questi sempre 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 raditi ah vedete la guarda guarda ah yeah qua pure qualcosa ci vuole far capire il gioco ancora non ce lo sto facendo vedere scommettiamo che a un certo punto qua si romperà tutto e noi stiamo senza tuta varia e quindi praticamente prenderemo danni chissà perché la penso così allora lì non possiamo andare neanche qua si capisce che c'è il caldo infatti ne abbiamo visto la zona gioco teoricamente potremmo anche prendere la varia giusta a sto punto tanto tutto buono tutto buono sperando di sì però non ho bisogno di salvataggio sono progredito vai lascia stare andiamo avanti e basta cosa si fa qua? ah questo è un ascensore ah no no cos'è? ah no vabbè è flusso è stato deviato abbiamo tolto sto combustibile da una parte per metterla da un'altra o comunque per aprire una roba e partiamo da qui qua abbiamo fatto solo il giro basta basta se seguiamo questo scusami eh se seguiamo questo siamo chiusi ora vediamo con Ada calcamento dati in corso non ci sono dati relativi al tuo aggressore nel database della federazione tuttavia ci sono dati su una tribù guerriera cioso la probabilità che le due cose siano collegate è alta hai visto l'architettura e i manufatti della tribù guerriera su questo pianeta questo deve essere stato uno dei loro insediamenti ma perché qualcuno ti ha portata qui e ha inviato gli enni a catturarti il filmato del parassita X potrebbe essere stato creato ad arte come trappola per attirarti qui ma avevamo detto che era giusto, era vero la situazione resta poco chiara ma la tua priorità non è cambiata devi tornare alla navetta hai attivato il sistema di rifornimento del manima questo ha ripristinato l'energia delle porte termiche chiuse cercale per procedere continua a cercare l'energia specifica che hai utilizzato contro il primo enni che è l'unica arma che hai per confrontarli sfortunatamente confrontarli brutto termine per affrontarli magari ci sono ancora sei enni che ti danno la caccia non sei in grado di affrontarli non dimenticarlo va bene allora ah no si sono riaperte le porte quindi le porte magmatiche chiuse oh gesù va bene basta seguire questa parte va bene vabbè sono scemo va bene va bene va bene perché perché ho indugiato così tanto non lo so seguiamo sto tubo abbiamo capito che bisogna seguire sto tubo va bene va bene va bene va bene qua si torna indietro e ok probabilmente per fregare l'emmi esattamente per fregare l'emmi va bene qua cosa abbiamo? ah ecco cosa abbiamo raga io l'ho detto che assomigliava a mother brain me lo sono infatti è così cioè guardate lanciano ha dei cannoni usa questi dischi di fuoco per forza dei cosi di mother brain comunque qualcosa di molto simile del resto quello è un chozo il mother brain è un artefatto di chozo praticamente posso poi si affronta pure un po come mother brain è un cervello è mother brain punto è lei comunque vedo qualcosa di parecchio simile vedo che schifo immagino che bisognerà fare sta cosa per tutti gli emmi probabilmente adesso abbiamo le armi per sconfiggerlo questo cosa malefico ottimo russome no per forza di qua ah perché mi stavano andando a fare il tutorial va per quello no non si può fare io non vedo che ma su è un po' brutto mirare questo robot comunque sicuramente sto sbagliando una cosa forse mi dobbiamo far capire che devo prima sparargli la raffica e infatti si sta consumando è andato ma niente a racco no ah quindi sto robo ci ha dato anche un'abilità che è quello che faceva lui fondamentalmente ah buono buono mi piace andiamo se c'è qualcosa dietro che magari posso già prendere no vabbè qua era la stanza di mano del coso dell'unità non ce ne frega niente andiamo di qua però abbiamo trovato tutto sommato questo ole anziché viaccia l'alacmosfera c'è andato questo qua va bene va bene vabbè non posso farcela vabbè quindi bisogna andare per forzare qua va bene così bello bello ah ok non si distruggono per sempre però li puoi buttare a quel paese lasciandoli lì per un po' va bene va bene intanto siamo caduti con un caletino ah vedete solitamente lo scalare questo tipo di pareti o delle pareti simili lo si otteneva con l'alacmosfera ma parecchio avanti nel gioco invece lo fa mettere quasi subito è evidente che per loro è importante questo tipo di verticalità va bene qua bisogna fare un discorso diverso adesso non posso fare adesso non posso fare un calcone ma come se avessi per la nuova che si deve sentire un'alacometroформabile che si deve sentire allora non posso fare un'alacometro sul che riesce a fare un'alacometro non posso fare un'alacometro allora non posso fare un'alacometro ah aspetta ne ho trovato le scatole grazie ah no aspetta non ci possiamo andare perché non ci possiamo andare serve la abilità specifica presumibilmente si prenderà tra un po e per caso la statua di polcioso che abbiamo visto all'inizio siiii e in più c'è sto roba a terra per caspita c'è sangue maia sto sbagliando sicuramente qualcosa sto sbagliando sicuramente qualcosa ho capito che lo posso sfruttare quel momento lì vale ah ok adesso noi abbiamo la favolta di vederlo attraverso quella spara lì potete potete ma è difficile è soltanto una dottura di scatole immonde ma è difficile è soltanto una dottura di scatole immonde aspetta aspetta qualcosa ho sbagliato io perché eh infatti potevo semplicemente tempestarlo di mazzata non l'ho fatto non 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 ma quante cose da grande grande è il personaggio di samus e così non è colpa sua raga quello lì è un cubo ion si sono visti in metroid sam's returns copertura a spettro che mi fa pensare che serve per diventare invisibile infatti il coso diventava invisibile aggiornamento della compatibilità con la data ion in corso sono lentamente la carica ion sono disposti a consumare ulteriormente ah quindi bisogna pure fare attenzione perché sennò si prendono danni se la si usa per troppo tempo va bene va bene qua c'è qualcosa va bene a differenza di metroid sam's returns però qui l'energia ion si restaura semplicemente camminando va bene va bene ma infatti adesso possiamo passare qua questa è sicuramente una una shotgun qua ci siamo andati a questo punto però vorrei trovare una zona di salvataggio per salvare i miei progressi per fermare sto video guardate le scatole oh possiamo parlare con noi ma no salviamo va bene perfetto fermiamo qui i progressi è oh Grazie.